Dopo mesi di preparazione, finalmente adesso arriva il momento più esaltante, il momento più eccitante della stagione, quello che ovviamente riguarda i play-off. Finalmente si comincia a competere sul serio per arrivare fino in fondo, noi ci siamo preparati duramente, abbiamo fatto un percorso lungo e faticoso, il nostro primo avversario, la pallacanestro Trapani, domenica in casa a Carnera. Proprio i siciliani hanno concluso al primo posto il girone azzurro davanti a Ravenna, Mantova, Pistoia, Cento e Piacenza, che tipo di avversari dobbiamo attenderci? Una squadra sicuramente in fiducia, una squadra in estrema salute, hanno aumentato la produzione offensiva di 10 punti rispetto alla regular season nella seconda fase e hanno aumentato e migliorato ovviamente le percentuali sia di tentati, sia per quanto riguarda i tiri tentati, sia per quanto riguarda la percentuale di realizzazione, sia da due punti che da tre punti. Sicuramente uno degli scorer più efficaci di questo campionato, la Marshall Corbett è uno dei giocatori più importanti per la formazione siciliana e poi atletismo e esperienza e stazza vicino a canestro con Miller, l'innesto che ha sostituito Marshall Powell e Andrea Renzi, un veterano della categoria, un giocatore di grandissimo talento. Domenica scorsa nell'ultima sfida del girone bianco contro Scafatti erano assenti sia Marco Giuri che Michele Antonutti, che percentuali di possibilità ci sono di rivederli in campo contro Trapani. Credo di poter dire al 100%, il professor Sepulcri e tutto il nostro staff medico hanno valutato le condizioni di entrambi e hanno ritenuto più opportuno tenerli a riposo da un viaggio molto dispendioso e da una partita molto dispendiosa e quindi questa è la motivazione principale per cui non erano in campo a Scafatti, oltre ovviamente ai piccoli acciacchi che si hanno a questo punto della stagione. Però sono entrambi rientrati in gruppo dall'inizio di questa settimana, stanno entrambi bene, quindi sicuramente ci sarà modo di vederli in campo domenica alle 18 al Cammera.